Grave incidente nel Veronese dove un'auto, un'Astra Opel, si è scontrata con un pullman. Il bilancio è tragico due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite, una in modo grave. Un paio di coniugi sono morti l'incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 1 giugno, a Cologna Veneta, frazione Baldaria, in via Santa Giustina. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 14. Le due persone decedute erano a bordo dell'auto coinvolta nell'incidente. Come riportato da Verona Today, ha perso la vita una coppia di coniugi ultraottanenteni residenti a Sarego. Tutto città la precedenza non rispettata e l'impatto secondo le prime informazioni arrivate sulla vicenda, l'auto non avrebbe rispettato la precedenza uscendo da una strada laterale. Il fatto di non dare la precedenza ha innescato lo scontro frontale con l'autobus della linea 236 della TV, partito da San Bonifacio e diretta appunto a Cologna Veneta. L'impatto tra i due mezzi è avvenuto a due chilometri dal capolinea. L'autista del bus è rimasto ferito e ha riportato alcune fratture. Sul bus erano presenti diversi studenti. Tra questi due sono stati portati al pronto soccorso in codice giallo, mentre il più grave è stato portato via in codice rosso. Salvare sul posto si sono recati anche i vigili fuoco del distaccamento di Caldiero con automezzo, oltre al personale 118 con ambulanze ed elicottero. I tre feriti sono stati trasportati negli ospedali di Borgo Trento e San Bonifacio. I vigili del fuoco si sono adoperati per estrarre dalle lamiere l'autista del bus, oltre a collaborare con il personale sanitario. La strada è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario alle operazioni, che si sono concluse intorno alle 15.30.